Ai domiciliari da luglio del 2021 in una comunità terapeutica di Olivetto Lario per disintossicarsi ora per lui si sono nuovamente aperte le porte del carcere, non San Vittore dove era stato detenuto subito dopo l'arresto ma quelle del penitenziario di Pescarenico, è stato portato a lecco Alberto Genovese, l'ormai ex imprenditore del web condannato a 8 anni e 4 mesi per due case di violenza sessuale, la prima nell'ormai tristemente famosa terrazza sentimento quando violentò una ragazza appena 18enne nel corso di un party a base di sesso e droga l'altra a Villa Lolita, a Ibiza lunedì sera gli uomini della squadra mobile gli hanno notificato l'ordine di esecuzione pena firmato dal sostituto procuratore di Milano Adriana Blasco dopo i 9 mesi a San Vittore e il periodo ai domiciliari sulle sponde lecchesi a Genovese resta da scontare una pena di 4 anni, 2 mesi e 10 giorni in carcere a Pescarenico potrebbe restare dunque poco più di 2 mesi dopodiché i suoi legali, che potrebbero già ora ricorrere contro il provvedimento potranno chiedere di trascorrere la detenzione che ancora manca in affidamento ai servizi sociali o nella clinica di Oliveto dove già si trovava sono i risvolti della riforma cartabie che concede la riduzione di un sesso della pena a chi condannato con rito abbreviato rinuncia al ricorso in appello come nel caso di Genovese sempre per la stessa riforma però, per ottenere l'affidamento terapeutico in presenza di un reato stativo come la violenza sessuale di gruppo è necessario che il residuo pena scenda sotto i 4 anni l'ex re delle start-up dovrà comunque affrontare un nuovo processo è accusato di altre violenze, del tentativo di comprare il silenzio di una delle vittime e di aver detenuto materiale pedopornografico Grazie a tutti